Emerson, parliamo di un modello particolare della Emerson, un modello customizzato. Questo è il Sark, al quale sono state sostituite le guancette, originariamente nere, con delle guancette in canvas micarta e dei bolster in titanio, sia da un lato che dall'altro. La clip che vedete è in acciaio, credo, come vedete però non è reversibile. Il coltello inoltre ha il sistema di apertura Wave, oltre al classico disco di apertura. Questo modello ha subito un altro trattamento, è stato regrendato da Tom Crane. L'impugnatura è abbastanza confortevole, c'è una zirinatura nella parte superiore della lama e dei bolsters. Sistema Linear Lock. I modelli della Emerson sono abbastanza ben fatti. Questo, come vedete, è lo spaziatore un po' di forma particolare. Emerson Sark